Scendiamo di categoria, vi ricordo naturalmente che la partita Trivento-Riccione verrà trasmessa su Icaro Sport, canale 211, lunedì sera alle ore 23 e in replica martedì alle 14.30 in quanto siamo esclusivisti per quanto riguarda le partite del Riccione. Calcio eccellenza! Calcio eccellenza, andiamo subito a vedere qual è il tabellino della dodicesima giornata di eccellenza. Partiamo da Castel San Pietro che se la vedrà con la Copparese, Alfonsine Tropical Coriano, Cervia Russi, Copparese Ribelle, Faenza Misano, Massa Romagna Centro, Ozzanese Castel San Pietro, Sant'Antonio Castenaso, San Pierana Sant'Agatese, Savignanese Imolese, Riposa Sassomarconi, la giornata è la tredicesima. Allora, tra le partite di cartello sicuramente Savignanese Imolese, la squadra di Farnetti si sembra essersi ripresa, Limolese pure, quindi direi che è una partita quasi da tripla. Poi da capire chi è più in crisi tra il Massa e il Romagna Centro, Romagna Centro che sta là davanti ma ogni tanto perde qualche colpo clamoroso come domenica scorsa, il Massa che sembra forse aver trovato la via della risalita e quindi qui ci saranno delle conferme da cercare da entrambe le squadre. Poi sicuramente bella anche Cervia Russi, un derby che potrebbe essere spettacolare. Tropical Coriano che fa visita all'Alfonsine, una trasferta molto insidiosa per la squadra di Costa che è un po' che non gioca per varie vicissitudini. Poi c'è un impegno che potrebbe essere agevole sulla carta per il Misano che va a Faenza, ma attenzione perché per i Manfredi non dico che si parli di ultima spiaggia, ma insomma non possono permettersi di perdere ancora punti in classifica. Tra l'altro il Misano a proposito di punti persi domenica deve recitare veramente il mea culpa perché ha creato tantissimo, soprattutto con Gravina, un giovane classe 94 seguito già da società di lignaggio superiore, però ha anche sprecato tanto e paradossalmente ha trovato il gol nel modo più fortuito con mister Centoretti nel Misano, Antonio Marino appunto che ha festeggiato proprio in questa settimana i 100 gol in casacca bianco-azzurra. D'altro canto invece abbiamo visto una squadra, quella di Donato, che non ha mai mollato e quindi ha fatto capire di esserci, tant'è che ha guadagnato il pareggio in inferiorità numerica perché Gardenghi era stato espulso a mezz'ora dal termine per proteste e quindi non sarà a disposizione domenica in quanto squalificato per la trasferta di Savignano. Questi presupposti di alcune partite, adesso andiamo a sentire Andrea Signorini, giusto? Sì, uno dei dirigenti del Misano che come hai detto tu dovrà vedersela contro il fanalino di coda nel prossimo turno contro il Faenza, allora sentiamo Signorini. Tra l'altro Signorini che ci fa un po' il punto, Jenny, sul fatto che insomma a Misano c'è un progetto che è quello sostanzialmente di valorizzare e vendere i giovani e quindi spesso e volentieri a gennaio la squadra viene un po' rivoluzionata e forse anche indebolita, ma questo ci può stare secondo quanto detto da Signorini. Il nostro campionato sono sempre due fasi, l'andata e il ritorno, perché dipende sempre da quello che succede a gennaio. Sinceramente io anche se mi piacerebbe finire con questa squadra come dirigente, però sappiamo che le nostre priorità sono altre e quindi mi auguro che questi ragazzi abbiano delle scienze. Il nostro direttore tecnico Fernando De Arsila è anche il consulente tecnico del settore giovanile del Cesena, ma noi i rapporti sono dal punto di vista sportivo, tecnici, sono iniziati l'anno scorso e a noi la prima squadra non è che abbiamo rapporti con la prima squadra del Cesena, noi siamo contenti quando gioca Cesar Mezzacolli perché vedere un ragazzo che due anni fa giocava nel Misano e adesso ha esordito in Serie A per noi è un motivo di orgoglio e ci spinge a continuare a fare quello che stiamo facendo. Gravina è un giocatore sicuramente che ha già delle richieste, c'era a fini Matteo, anche lui classe 94, l'anno scorso è già stata la National Under 18, ci sono già dei discorsi iniziati con delle società professionistiche, sono sotto osservazione già da quest'anno, sono rimasti a Misano non perché non avevano delle richieste, ma perché è stato convenuto con questa società che era bene fargli fare un campionato di eccellenza, ma ne abbiamo anche degli altri, nel 95 abbiamo veramente dei nomi molto interessanti. Ottimista dunque signorini per quanto riguarda il suo Misano.